Oggi giornata piovosa e un po' triste Guardate lì C'è la mia macchina, la mia mini Che andrà demolita E niente Bye bye Dunque è chiusa e archiviata sta roba della macchina Ma mi chiedo Ma quanta burocrazia c'è? Ho fatto un miliardo dei fogli I giri, è una settimana e sto dietro a sta roba Poi gli uffici chiudono, riaprono Ma quanta cazzo di burocrazia c'è? Ma quanta ce n'è? Ma quanta burocrazia c'è? Ma come so, la democrazia non c'è più No la democrazia, la burocrazia C'è o no? Voi fa ste mani 43 grammi di pasta 43 grammi, guardate che lavoro Tutti i giorni Tutti i giorni 43 grammi Ma questa che dieta è? Con tutti sti spaghetti rispaghettati Con doppio tonno ritornato E come sarebbe? Attenzione, scasamento Guardate, apre tutto per scasare Sta spostando tutto, via Eccolo Vai, vai, vai Vai, vai Vai mangià Se uno conta da me sta mangià Conta a parte che gente va nel giù Me ha ido non mangià Beh, vai, va, vai Be, va, va